IANO MUSIC MACHINE E' andato a raccattare di qua e di là tutti gli spunti più inimmaginabili dei grandi artisti planetari. Iniziamo subito l'appuntamento di quest'oggi con un brano che ci riporta negli anni Ottanta, il brano si intitola Genius of Love, loro si chiamano TomTom Club. What you gonna do when you get out of jail? I'm gonna have some fun. What do you consider fun? Fun, that's more fun. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima parte degli anni Ottanta per rivivere insieme quel passato che è rimasto sotto pelle a ognuno di coloro che hanno vissuto l'inizio del nostro percorso. Ora invece ritorniamo a qualcosa di più recente anche se comunque è solamente di un dieci anni circa e perciò passiamo negli anni novanta con Cheb Khaled. Yano Music Machine Grazie a tutti. Ecoute-moi Aïcha, Aïcha, non va pas Aïcha, Aïcha, guarde-moi Aïcha, Aïcha, réponds-moi Aïcha, Aïcha, ecoute-moi Aïcha, Aïcha, non va pas Aïcha, Aïcha, guarde-moi Oh, 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 Aisha, Aisha, che vuoi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grazie a tutti Musica che arriva dal Medio Oriente Musica Rai con Chab Khaled E la famosissima, intramontabile Aisha The Best Of Anni 80, anni 90, anni 2020 Perché arriva il remix di Trollabundin Del nostro DJ Ben from Augsburg Musica 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 Eriere Aspende Aspende Non amo te Eriere Aspende Aspende Eriere 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 Eskende Eskende Eriere 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 Aspende Yano Music Machine Musique Musique Grazie a tutti 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 Grazie a tutti